Valentina is three bodies, one name and three bodies, ok? Please. Lavorare in gruppo per noi diciamo che lavoriamo, abbiamo già lavorato insieme, è molto importante, è stimolante esatto perché quando a qualcuno manca qualcosa c'è l'altro che diciamo può complementare la mancanza oppure viceversa. Sì, veniamo tutti da una scuola, il centro sperimentale di cinematografia Sede Lombardia, ci siamo conosciuti lì e è iniziata questa collaborazione creativa e anche umana perché insomma siamo ovviamente anche amici al di fuori del lavoro. Non è facile lavorare sempre in gruppo perché la regia è una cosa molto personale ma con loro è un piacere, diventa una cosa divertente, quella è la cosa più importante in questo caso. Manchi solo te. Sì, per quanto riguarda questa, per me anche come hanno detto loro è un'occasione stimolante diciamo per crescere sia a livello professionale ma anche umanamente. Quindi quello che manca a me ce l'hanno loro e riusciamo ogni volta a uscire diciamo vincenti perché lavoriamo, da quando siamo conosciuti lavoriamo bene insieme. Grazie mille. Grazie mille.